Giornata terramana per la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein, che è arrivata oggi in provincia per sostenere la candidatura di Luciano D'Amico alle prossime elezioni regionali. Alle 9 in punto la segretaria è arrivata a Castelli, dove ha visitato il Museo della Ceramica e la Bottega Artigiana. Per me è un grande piacere essere qui a Castelli per questa campagna per costruire un futuro migliore per l'Abruzzo. E ci piace farla attraversando, sindaco, insieme al nostro candidato Luciano D'Amico, le aree interne di questa splendida regione, simbolo di resilienza e di speranza. Per non vederle spopolate bisogna che non manchino i servizi, le opportunità, soprattutto per i giovani e quindi opportunità di lavoro. Qui abbiamo una storia straordinaria legata alle maioliche, alle ceramiche, che ha portato Castelli e l'Abruzzo in tutto il mondo. Ancora la si coltiva, bisogna supportarla e non darla mai per scontato. Al contempo, naturalmente, bisogna puntare tanto sull'istruzione di qualità. So che c'è un liceo del design che è un'eccellenza, bisogna lavorare per non lasciare nessuno indietro ed è al centro del programma di Luciano D'Amico per questa regione, anche per la sua esperienza naturalmente professionale da ex rettore dell'Università di Teramo. Per noi queste questioni sono quelle centrali, cioè riportare le aree interne al centro del dibattito politico del paese. Perché se non si sta attenti a quello che accade qui, i problemi poi arrivano anche a valle. Dopo circa 40 minuti, Elislein ha lasciato Castelli per continuare il suo tour, prima con la visita a Casale San Nicola, di Isola del Gran Sasso, e poi a Teramo dove ha incontrato la filiera delle costruzioni sindacati studenteschi. Nel pomeriggio invece, oltre alle tappe di Bellante, Roseto degli Abruzzi, Giulia Nove e Mociano Sant'Angelo, la segretaria sarà alla riserva del Borsacchio per discutere sulle varie tematiche di attualità riguardanti l'area. Noi ce la metteremo tutta, per cui io voglio ringraziare naturalmente il sindaco per quello che ci ha raccontato di questo luogo dove si incontrano perfettamente arte, cultura, tradizione e natura e continuano ad avvivare delle nuove opportunità per il futuro. Non dimentichiamo però che i comuni da soli non ce la fanno e serve una regione che li ascolti molto di più, che gli aiuti semplificando anche le pratiche relative alla ricostruzione che ancora devono portare avanti e quindi noi siamo qui per raccogliere i loro bisogni e insieme a Luciano per cambiare pagina per l'Abruzzo, per avere un'amministrazione finalmente al fianco dei bisogni delle persone, che ascolta non si chiude in se stessa e non prende ordine dai partiti romani.